Abbiamo scelto come brano per meglio puntualizzare sul problema della violenza sulle donne. Esatto. Il brano sentito, qui canto anch'io, siamo tutte e tre, si intitola... Il silenzio che uccide. Il silenzio che uccide. Eh, direi Nadia. Dove l'hai detto? Che non si è sedillo bene. Il silenzio che uccide. Esatto. Denunciate donne, denunciate. Allora, per voi Nadia e Francesco, un brano bellissimo composto da Umberto Napolitano. Quando vedi che la vita è una porta che si chiude, Quando provi intorno al vuoto, è un silenzio che ti uccide. Quando senti le sue mani, che ti picchiano più forte, Ti domandi se ti ha amato, o è un sollievo anche l'amore. E ti senti chiusa in trappola, la tua vita è una prigione. Quando urla è la sua voce, che fa piangere tuo figlio. Non ti senti messa in croce, ma non trovi un nascondiglio. Devi volerti bene, e porre fine alle tue pene. E andare dalla polizia, fare in modo che lui se ne vada via. Quando senti le sue mani, che ti picchiano più forte, Ti domandi se ti ha amato, o è un sol sollievo anche la morte. Perché in fondo hai sperato, forse un giorno cambierà. Ma come il killer più spietato, lui non mostra la pietà. E non sai con chi parlare, muoti in mezzo a una palude. Lui non sa cos'è l'amore, c'è un silenzio che ti uccide. Devi volerti bene, e porre fine alle tue pene. E andare dalla polizia, fare in modo che lui se ne vada via. Devi volerti bene, e andare dalla polizia, fare in modo che lui se ne vada via. Lui se ne vada via. Grazie. 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 Grazie.